I scout provenienti dalla provincia di Lecce si sono persi sui monti della Sila, sono state ore di apprensione ma la vicenda fortunatamente si è conclusa per il meglio. Siamo collegati telefonicamente con Francesco Persiani che si trova proprio nella zona dove è accaduto, dove gli scout si sono persi. Allora Francesco, velocissimamente spiegaci qual è la situazione e come è andata a finire. Sì, buongiorno, sono rientrati nell'accapamento, stanno ancora dormendo in queste tende che vedete in cima alla montagna. Si erano persi, avevano perso il sentiero ma sono stati molto bravi, ci ha detto il capo scout Pasquale Marino, a farsi ritrovare, a collaborare con gli uomini della forestale che sostanzialmente li hanno rintracciati poi questa notte intorno all'1.30. Si sono orientati benissimo, hanno saputo lanciare i giusti segnali, soprattutto sono rimasti uniti, non si sono dispersi, hanno acceso il fuoco, quindi hanno fatto esattamente quello che hanno imparato nel corso di questi anni. Sono tutti ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Qui ci sono già alcuni genitori dei ragazzi, ma gli altri che sono rimasti a Lecce possono stare tranquilli. Stanno tutti bene, solo una lieve abrasione ad un ginocchio per una ragazzina. È tutto, linea allo studio.